Yo ma bella raga, riaccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase direttamente perché come avrete visto nel post community il mio video pool l'ho accartocciato e gettato nel cestino raga perché son dovuto arrivare ai 50 coin per ottenere una copia garantita a quel punto di super 17, 2 stelle per arrivare a 50 coin sapete quante copie di bulma 1% ho trovato? 2, non di più raga io non lo so sti banner gt, ho il malocchio verso sti banner, mi piace un sacco come tag ma devo spendere un pandemonio per poterlo giocare, bene grazie legends, grazie toshi in ogni caso raga l'ho portato a 3 stelle con le poche z power che rimanevano l'ho art boostato a 99 su 99 per tutto quanto per compensare un po' alle statistiche scarse e novità che abbiamo scoperto oggi raga lui si porta pure una carta gialla con il 50% di chance di paralizzare come se non fosse già abbastanza toxic di suo team dove lo giocheremo? Chiaramente team gt per questo primo showcase non giocheremo bra, bulla, brulla, non la giocheremo insomma giocheremo una line up un po' più classica ma non per forza di cose magari la più ottimale direi che non c'è nulla da aggiungere io vi invito come sempre oggi più che mai a lasciare un like a lasciare un commento, supportatemi raga che questo è lo showcase più costoso praticamente che vedrete sul canale e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto grazie a tutti detto ciò testiamolo vediamo se ne valsa la pena ma penso di sì vamonos team son fame c'è proprio quel Goku ultra ultra istinto ciao ha un fame ha un fame subito così di partenza incassiamo sul Goji ok va bene facciamogli partire subito il counter te la su alti chiamatela come volete per me è un counter questo raga ok raga ma beh come cazzo fanno allontanarsi così non c'ha senso sure sure oh ciao Goku ah va bene va bene va bene pensavo di farti partire un altro counter good let's go 17 let's go 17 ok meno uno da neutri noice ok gauge ricaricato raga è rapido è alquanto rapido certamente Kidku ok qua non mi puoi locare non puoi fare niente di troppo grave buttiamo il Goji ok che sei ne altro ma penso di incassare good 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 ok se me lo butti così sul piatto d'argento io te lo rascio senza il minimo dubbio ottimo meno due e resta solo Kidku che purtroppo è blu è grosso non so se riusciamo a fargli la legendary finish capiamo allora però se lo spawn bianco fail fail prossimo vamanos team movie più Goku ultra istinto ciao caro allora partiamo con tante burraste in mano good good super 17 let's go grazie per avermi fatto fuori la verde mettiamoci l'anticova beh direi che vale la pena farlo pompati Goji pompati Goji super 17 per il momento tre stelle di puro devasto bravo 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 ma no teniamocelo anzi ok potevamo switcharlo lì easy sure facciamoglielo partire siamo immuni alla morte incassa incassa Kidku muro umano il nuovo reguldo easy va bene non volevo proprio far questo certo certo uh pensavo si trasforma va bene va bene povero piccolo raga ha scritto Rising Rush in fronte lo dico tutte le volte che lo trovo è sempre lui che si prende in rush o per scelto o per sbaglio raga ma è sempre lui mai prima di chi è esser tornato in vita ricordiamolo non era proprio quello che intendevo fare buttiamo su pass 17 non ha ancora fatto un cover tra l'altro oh ti è morto gombist lo sai pure tu ma perché non l'hai trasformato frate gg prossimo vamanos team gt più bardo ok aggressive ok tanto di drop va bene siamo contro uno schillato a quanto pare fai pure la blast quando serve ottimo ottimo era già in anti-cover nani fu quella prima carta con il 400% che tira mi sa che è stata quella mandarlo dritto in anti-cover sì fai lo scuola mi sa mi sa si Let's go Ok cover finito Let's go again Spara tutto 17 Grande infame Sciotta Preso Stammi alla larga Very 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 good Spariamola raga Goji entri tu 1.859.000 Vediamo se le nostre tre stelle sono abbastanza Eh purtroppo no Eravamo anche completamente pieni qua No era un allontanamento super tranquillo Il mio non era uno step totalmente all'indietro Va bene va bene Ok Impossibile morire Let's go let's go Quante blast che si pesca il bro Il bro è pieno Meno due E meno tre Piazza pulita raga È forte 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 Ed è solo a tre stelle Prossimo Ultimo match Team GT Okidoki Allora visto che siamo in anti cover Spariamogli una strike Che magari lo baitiamo Anti cover nuovamente Let's go 17 Bulla Bulla Let's go Quel sorriso Quel sorriso Mi sono impappinato raga Addirittura Ok Va bene Te l'ho anche debuffata Visto che me l'hai tirata dritta su di lui E per fortuna direi Ok perfect Ok perfect Yes sir Yes sir Vai super 17 Spacca questa brulla Meno uno Non ce l'ho Perché sono così tardo raga Per provare a tappare Grosso Recuperiamo HP Subito Uh Uh questo neutro Uh questo neutro Ora che lo possiamo finire di tap Perché a meno 240% di recovery HP Nani 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 Finalmente anche la leggenda rifinisce Raga Ho rosicato tantissimo Nel dover arrivare a 50 coin Per ottenerlo Ma li vale tutti Ci sarebbe stato meglio Trovarne più copie in 50k Come dovrebbe essere normale Ma anche così raga Devo dire che Non me ne sono pentito Tantissima roba Ditemi la vostra qua sotto Un bacione a tutti Sì